Questo, vero? Il gran tesoro di cui parlava il tuo mentore. Non somiglia affatto all'uomo che chiamano il saggio, mi spiace. Aspetta, Scaldanti. C'è un ultimo enigma, vedo. Queste statue sono come quelle di prima, ma hanno immagini incise sopra. Ci sono immagini incise anche a terra, ma di altro genere. C'è una corrispondenza, forse. Ma quale? C'è una differenza tra gli animali sulle statue e quelli sul terreno. Non la vedi? Sì, questi sono predatori. Gli altri prete. Quale predatore si abbina a ogni preda? Ecco il punto. Giusto. Ecco la corrispondenza. Abbinare predatori e prede. Ci siamo. Potresti darmi una mano? Potresti darmi una mano? Potresti darmi una mano? Cristo è lui, il saggio. Questo affare avrà centinaia di anni. Ben di più. Certo che sia lui? Sì. Lo riconosco dagli occhi. I templari hanno detto perché volevano il saggio. Hanno raccolto il suo sangue in un piccolo cubo di vetro. Come questo? Già. Volevano anche chiedergli dell'osservatorio, ma è scappato. Abbiamo finito qui. ? Volevano anche a volte. L'attenzione, ma è di lui. Volevano Volevano anche a venerando? Quindi è capito. Sono riconosco dagli occhi.